La Galleria d'Arte e la Loggia di Ugo Agostinelli ospita allora questo evento, la mostra a tavole natalizie, un momento, abbiamo detto, promozionale, un momento di volontariato soprattutto. Certo, quando si tratta di fare qualcosa per il prossimo bisogna essere sempre pronti. Secondo me la Galleria d'Arte deve anche, umilmente, capire quali sono i problemi della gente, soprattutto perché si possa, diciamo, in qualche modo alleviare qualcosa. Non è che facciamo molto. Io credo di non aver fatto molto, ho scoperto le tavole natalizie, ma insieme a tutte le associazioni, FIDAPA, Croce Rossa, Misericordia, tutte queste bellissime, c'è il rinascimento su Polcoro, sono associazioni che fanno cose straordinarie. 13 associazioni sono queste? 13 associazioni danno anche prestigio a Sansepolcro, secondo me. È molto bella, io credo che tutti dovrebbero in qualche modo partecipare alla beneficenza. Questa volta è rivolta a San Lorenzo e speriamo il prossimo anno di rivolgersi a qualcun'altra. Abbiamo aderito oltre 15 associazioni, un concorso e club, ci sono quindi esposti 13 tavoli e tutto quanto è fatto appunto per solidarietà. Sì, c'è un concorso, la tavola più bella di oggi e terminerà il 6 di gennaio e sarà la serata finale al Borgo Palace dove verrà la tavola più bella.